Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io mi chiamo Samone Glafano Oggi siamo in un nuovo video dove avete visto dal titolo che andremo alla ricerca del Kraken E noi che cosa faremo? Lo uccideremo e se ce la facciamo nel video lo addomesticheremo Perché per ucciderlo c'è bisogno, perché hanno bisogno dei tentacoli Per addomesticarlo perché lo vorremmo, che non abbia mai avuto in nessun mondo Allora, siamo con i leoni, in questo video non sentite Edmanel Quindi se voi non sentite Edmanel è perché ho deciso di non farlo sentire Per motivi tipo così E niente, andremo nel fondale Morini alla ricerca della Kraken Sperando che lo troviamo, ma penso che lo troveremo Perché a Emanuel c'era un problema in questo mandare inizio Che gli animali non spawnavano Però lui, cosa ha fatto? Avete presente? Te hanno secondo schiocco le dita e fa sterminare Oppure fa apparire metà del 50% oppure 100% Avete presente? Ecco, è come si è fatto questo Adesso ha fatto spawnare L'ha fatto due volte lo schiocco tipo Ha fatto spawnare molti animali Infatti ora stiamo vedendo un sacco di queste teratrughe nuove Che sono, vabbè, queste sono le nuove teratrughe che hanno aggiunto in questa mappa E' già c'era, vabbè Ecco la caverna dove dovrò mandare E ho lungo, 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 lungo Foro Ed ecco qua Siamo dentro Allora C'è qualcuno qua A vero, io ti voglio la visione noturna Però quella lì, come si può dire? Sì, quella è la meta-visore Quella lì, così Poi quando si fa il notte, la ti voglio Allora Oppure con questa Con questo nuovo casco che abbiamo creato Abbiamo potuto Abbiamo potuto, finalmente Eeeh Oh, Kraken Ma attento al Kraken Non lo so, controlla tipo con i cannucciali Quanti mososauri E ma Uccidiamo O Dove se chiamo? Che cosa vuoi fare? Allora Uno Allora Io distraggo Il Kraken Un mososaur alfa E ma Dove mi uccidere Quelli lì che Non Ma Rho Molti stanno a mezzo Dio mio E ma Dove mi distrarre? Allora Io provo ad uccidere Tutti Tranne Kraken No Ok Ok Ho ucciso Mososauro E ma attento quando ti prendo Ok L'ho uccisi Manca uno Però vuoi stare che si sta scontrando Contro Ok Ok Vai Veloce Veloce Che per adesso È distratto Il Kraken No Puoi stare colpito Il Kraken Non so Non so Quanto 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 Perché non abbiamo La E ma Io distraggo Il Kraken Vai Vai Ma Ok Mi faccio Prendere Raga Domestichiamo Il Kraken Signora Kraken Vieni Mi ha preso Ok Vai Vai Do me Vai Raga Guardate Lui Deve Andrà E deve Andare Nel Becco Chi ha E deve Dare Vai Ma Oh Mi ha lasciato Ma Attento Che sta Facendo Ma Che sta Succedendo Ma Corri 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 Ok Sei ingavolato Con me No Sei ingavolato Con te Ma Corri No E ma Che devo Fa Uccido Ma Perché è Successo Che cosa È Successo Hai Buttato Melma Tutta Arancione Però E ma Abbiamo Otto Tentacoli Più Petrolio Lo devo Buttare Vabbè Raga Ho fatto Una cosa Ho tenuto Tentacoli Ma Eravamo Pronti Per Domesticare Il Kraken Ma come avete visto È successo Questa cosa Che non sappiamo Infatti Come è successo Manco Manco Però c'è Un coso Alfa Che Può Servire Per Loot Ah Posso Mi ha dato Le cose A me Ma Ho tenuto Rollstone Rune Stone Questo Dente Di Musosaurus Allora Lo Dove Buttare Cioè Raga Ho completato In realtà La missione Del video Solo Che In realtà Puro Volevamo Adomesticarlo Quello Lì Ci interessava Di più Da Domesticare Adesso Domenico Parci Da trovare Altri T-rex Si sta Facendo Buio Infatti Penso Che Attivo Alla Moda Rai T-rex Mettura Quella Lì Quindi Ora Raga Vedrete Tutto Verde Tutto Così Ma è L'unico Mondo Raga Per Vedere Meglio Un altro Kraken Ok Aspetta Uccidiamo No Giusto Ok Allora No Però Ci sono Quelli Che Sentrometri Allora Io Distraggo Il Kraken Ehi Kraken Vieni qua No No Mi faccio Prendere No 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 Aiuto Mi Stavo A prendere Ok Vai Vai Uccidilo Ce l'ha sempre Con me No 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 Ce l'ha sempre Con me Lui Non ti Deve Preoccupare No No Ora ce l'ho Con te Ok Ora ce l'ho Con me No Mi ha preso Mi ha preso Mi ha preso Ah Può essere Mi direi trasporti No Si bagga Sicuro Ok Ma veloce Cioè Non mi sta facendo niente Perché la barra Quella lì No Che è successo Si è fermato A colpire A prendermi What Che cosa è Sto Ehi Signora Prendimi Mi sta scappando Mi ha preso Ma Ma Ehm Prendile Dalla mia No Ehm Attento L'hai presa No Ehm Ma Attento L'hai presa Quando mi lasci Te lo dico Tu subito Scappa Pure si capisce Quando mi lascio Ma Mi ha lasciato Infatti Scappiamo Un attimo E Prendi Molte Dalla mia In che senso Se lo mangi Tutte Allora Prendi No Ma Sta arrivando Sta arrivando No Ma Poi lo prendiamo Se è così Vai Ma Vai Vai Sta arrivando Solo che Devi essere veloce Vai Emanuele Vai Sta arrivando Sta arrivando Sta arrivando Sta arrivando Sta arrivando Sta arrivando Eccolo Un'attica propria Spera ma Prima Si doveva Calamaro Un attimo Il mio Così Perché Si stava Per Adormentare Vabbè C'è un animale Qui È grosso Aiuto Mi stavo Per prendere Io Un attimo Mi fermo Perché Voglio Voglio Mettere Il segno E Vabbè Vi controllo Se ha fame Una voce Una voce Allora In questo In questo Un attimo Un attimo Appena Mi lascia Ma Attento E niente Ti è preso Perché Sei sceso Ma Vero Puoi fare Sembra Così Si L'abbiamo Domesticato Ma La sella C'è Però Lui Raga Guardatelo Che Figo Allora Raga È Super Super Figo Abbiamo Domesticato Finalmente Kraken Quello Che Volevamo Fare Infine Opratutto Il Video Cosa Tiene A vero Ci Devo Teletrasportare E Questa È La zona Per Teletrasportare C'è Comunque Raga Perché Con Questi Taschi Con Questi Caschi Ci Possiamo Teletrasportare Comunque Raga Questo Vedi Si Può Concludere Qua Oltre Non c'è Bisogno Che Vi Ripeto Sempre Lo Stesso Quindi Noi Ci Vediamo Ad Un Prossimo Video Ciao